Noi oggi parleremo di un tema estremamente importante, visto che anche le cose che abbiamo sentito questa mattina, di sensibilità, di improviabilità, di generazione. Se devo ricordare qualche spunto di questa mattina che si ricollega alle cose che oggi parleremo, mi viene subito in mente per esempio il professor Costa che parla della tematica demografica e parla del tema dell'accelerazione della velocità delle generazioni, dicendo che le generazioni un tempo duravano 10 anni, adesso durano molto ma molto meno e quindi tutta la tematica dell'approccio ai giovani e del fatto che loro devono costantemente tornarsi cambia continuamente perché ci ritroviamo con una generazione ogni pochi anni invece che una generazione ogni molti anni. C'è tutto il tema della digitalizzazione che è stato più volte richiamato, ma se voi vi ricordate perché c'era, è stato il tema completo del convegno di Verona. Uno dice che abbiamo fatto il convegno e adesso abbiamo finito. No, non abbiamo finito. Da lì ripartiamo e ogni anno già si sentono dire cose ancora nuove rispetto alla digitalizzazione di quelle che solo un anno fa abbiamo sentito a Verona. Se vi ricordate a Verona si parlò perché c'era della velocità esponenziale del cambiamento che portava alla digitalizzazione e che stava iniziando la curva esponenziale. Beh, un anno dopo questa curva esponenziale ci fa dire che ci sono già delle cose estremamente nuove che abbiamo sentito. Ne hanno parlati tanti, abbiamo parlato molto legato a questo, delle competenze e del diritto all'apprendimento. Ci parlava Sacconi ma anche molti altri, tutti i ritardi che abbiamo rispetto alla formazione, all'apprendimento e alle conoscenze digitali ma non solo, quei grafici che ogni volta che li vedo, ci sono voi, a me come cittadini italiani mi viene un po' domani di pancia, un po' di tristezza, un po' di dolore. Tutto il tema quindi della formazione, dell'apprendimento, della digitalizzazione, tutte le tematiche quindi di nuovo legate alle proiabili, alla sensibilità di cui parliamo questo pomeriggio. E sono stati citati, ultimamente ne ha parlato anche su altro, tutto il tema del benessere e dell'awareness, del normal working, tutte le attività che portano alle aziende anche a vivere in maniera più, il lavoro più flessibile, non inteso come lavoro più flessibile, come precariato, può stato ormai interpretato negli anni, ma il lavoro più flessibile, inteso come veniva citato questa mattina di un tema anche a me molto caro, il fatto che ormai sempre più si va annullando, o comunque fortemente affivolendo, la differenza tra lavoro dipendente e lavoro autonomo e questo porta sì che i lavoratori dipendenti cosiddetti diventano sempre più spesso, dovranno sempre più essere imprenditori di se stesso. E cos'è questo se non il concetto di employability che è il tema di questa nostra giornata. Io inizierei con la collega Simona Franzetti che è SS Director di G-Group, giusto? Che alla quale, visto il lavoro che fa, soprattutto nell'area reclutiva, vorrei proprio partire. Idealmente abbiamo costruito il percorso di vita, non partiremo dalla selezione e andremo avanti nella gestione e nella conclusione del rapporto di lavoro, quindi ce la siamo data un po' con fieruce la gestione del rapporto di lavoro. E quando uno ha una selezione, un giovane in particolare, anche un non più non giovane, una persona che va ricollocata per esempio, no? Quello di employability. Oggi come si può, queste persone di fronte a un recruiter a un selezionatore, in termini di comprensione, questo tema fondamentale, che la responsabilità oggi nessuno, spesso chi non possiede più il posto di lavoro, ma deve possedere la professionalità per il lavoro. C'è percezione di questa cosa nei giovani e come la stazione di selezione può contribuire a fare cultura da questo punto di vista. Perfetto, buonasera a tutti. Sì, c'è questa percezione. Nel corso degli ultimi anni è cambiata completamente la popolazione che si approccia alle nostre strutture. È una popolazione molto ma molto più ampia, quindi che non è legata solo a chi di giovane ha bisogno di entrare nel mondo del lavoro, ma che ne è uscito per motivi propri o perché è incentivato ed è comunque ricollocarsi all'interno di un cambiamento importante che c'è stato. Tutto questo per noi comporta quindi la presa in carico di nuove risorse, ma anche con una metodologia completamente diversa. Quindi abbiamo un percorso che è legato senza altro una prima analisi a un orientamento della risorsa che approccia al nostro team di recruiting, a un mantenimento di questa relazione durante il nuovo inserimento lavorativo e anche a una ripresa, un'unione sia della prima fase di in e della fase di between in caso di nuovo cambiamento. Oggi, stamattina è stato toccato il tema che le aziende hanno un periodo breve di rapporto, si sta sempre più assottigliando, quindi c'è sempre più la necessità di mantenere una flessibilità e una capacità a modificarsi nel proprio percorso lavorativo. La cosa che diventa sempre più importante è poter accedere anche a un percorso di formazione, quello che noi oggi chiamiamo academy. Queste academy sono state orientate soprattutto a percorsi legati all'information technology, al mondo dell'engineering, al mondo dell'oreca, ma non solo, quindi non solo rivolto ai white collar, ma anche tutta quella fascia, quella popolazione che sono in bicola, ma che oggi nessun attendo ormai non ci richiede una specializzazione. C'è una forte percezione di questo cambiamento, le persone che si rivolgono a noi, che hanno le realtà diversificate, il ventaglio è veramente il più ampio possibile, hanno inoltre anche diversità etniche che non sono banali da gestire e hanno anche percorsi formativi scolastici diversificati. L'altro punto che è diventato estremamente importante e richiesto è una falmetizzazione riguardo ai contratti, a ciò che oggi ci permette di poter dare e poter inserire all'interno del percorso quelli che sono i nuovi contratti, quindi che aiutano sia a un inserimento ma anche alla propria presa in carico di una professionalità futura. E le aziende invece come si popolano nei confronti di questo cambiamento? Abbiamo visto il lato dipendente, le aziende l'hanno capito. Bella domanda, secondo me questo percorso diventa vincente nel momento che lo riusciamo a condividere con le aziende, io ho in mente, questo è il ritorno sul tema degli accademi che noi abbiamo fatto, sono percorsi formativi che all'inizio sono partiti su singola nostra iniziativa ma stanno diventando sempre più vincenti se condivisi in percorsi con aziende che partecipano all'interno con un proprio tutoraggio, con un percorso fatto insieme ai ragazzi, anche di insegnamento e successivamente di alternanza scuola-lavoro. La tematica che oggi è stata presa a spunto è estremamente importante ma diventa sempre più condivisa lato lavoratore e lato azienda se questi accademi sono condivisi a molte insieme con tutti gli attori del percorso e quindi anche con gli enti di formazione perché si customizza, perché l'azienda se lo fa sua e quindi non sente un peso nonostante deve dedicargli delle ore di formazione, deve dedicare ore di insegnamento e perché il futuro lavoratore si sente partecipe di un progetto. Bene, grazie, grazie a Simona. Allora io andrei in ordine e passerei a Francesca. Grazie. Fra Giardino Spardo e a Cialdo d'Alecco è un pianoforte, corretto? Sì, pianoforte. E da poco tempo perché è arrivata da pochi mesi dopo queste esperienze, 5 mesi dopo esperienze completamente diverse. La Simona ha parlato molto dell'importanza della formazione già del processo di selezione. Ecco, tu sei entrato in una nuova realtà, in linea multinazionale di un'azienda di tipo imprenditoriale italiano, ti trovi in tabula rasa, dovevi vedere qualcosa di nuovo, no, tabula rasa nel senso che tu e per te è una novità. Come stai affrontando vedendo un'organizzazione di un'azienda italiana soprattutto nella logica formativa e organizzativa? Come stai affrontando e leggendo la tua nuova realtà? Magari racconta qual è la tua nuova realtà, che si chiama il mistero. Allora, pianoforte nasce nel 2011 dalla volontà di due famiglie imprenditoriali italiane, la famiglia Cilmino e la famiglia Carlino, quindi Yamamai, quindi lingerie, visuel e cartisa per la parte valigeria e borse. Poi abbiamo anche un altro brand che è Jacked, specializzato in tessuti tecnici per il nuoto. Quindi pianoforte, questa nuova realtà, il ruolo che io vado a ricoprire è nuovo e qual è la sfida? La sfida è quella di creare una chiusura comune, un'organizzazione comune e creare un valore aggiunto sì per l'azienda, un valore competitivo per l'azienda, ma anche per i collaboratori che da oggi sono dipendenti di Carpisa, domani hanno l'opzione, l'opportunità di essere praticamente dipendenti di due gruppi grandi e stesse dimensioni. Quindi il tema dell'employability io lo affronterai oggi come tema strategico per l'azienda, legato quindi al cambiamento, perché oggi le nostre aziende cambiano in continuazione e se abbiamo delle risorse competenti e un approccio all'employability sicuramente i cambiamenti si fanno più rapidamente. E lo vedrei anche in un'ottica, quella un po' più classica di responsabilità fondamentale, quindi di lato collaboratore. Come mi sto un po' approcciando al ruolo, quindi mettiamo l'employability al centro e prendiamo tre assi che secondo me sono fondamentali. Uno è il tema organizzativo, due è il tema culturale e terzo è il tema dell'academy, di cui parlavamo prima, quindi il tema della formazione più classica. Per fare employability prima di tutto le persone devono sapere che attività e che ruoli ci sono all'interno dell'azienda. Sembra banale, per noi che lavoriamo alla direzione del personale tutto è chiaro, ma io mi sono reta conto, ho fatto più di cento interviste quando sono arrivate, le persone sapevano quello che facevano, quello che faceva il vicino non lo sapevano, perché l'azienda è imprenditoriale, nasce piccola, ci conosciamo tutti, poi le funzioni si ampliano, niente formalizzato e quindi come fare employability se neanche so quali sono le mie possibilità all'interno dell'organizzazione. Quindi abbiamo avviato un lavoro impegnativo e profondo su tutti i processi, stiamo mappando tutti i processi organizzativi e tutti i ruoli aziendali e la cosa innovativa di questo è che lo stiamo facendo con le persone. Quindi stiamo riunendo le due aziende separatamente, quindi lo facciamo in parallelo in questa prima fase anche per vedere le similitudini o le aree che si potrebbero mettere in comune, coinvolgiamo le persone, inseriamo una metodologia molto semplice che abbiamo acquisito e che poi saremo anche in grado di mantenere internamente, dove si parla di responsabilità, di chi realizza, di chi è informato e quindi si crea già una cultura del chi fa che cosa e poi da qui sviluppiamo strumenti. Quindi questo secondo me è il primo tema importante perché così le persone, uno, diventano attori anche del loro ruolo, potremmo anche fare quell'attività perché la fa nulla facciamo noi, domani come può evolvere l'organizzazione. Secondo tema è il tema diciamo culturale, quindi il tema di creare un valore aggiunto positivo per chi vuole cambiare ruolo, per chi si prende dei rischi, per chi propone, perché è chiaro che restare nello stesso ruolo per anni e anni, la persona è più in comfort, la prestazione è probabilmente migliore, però alla fine non si fa in quegli abiliti. Quindi bisogna incentivare una cultura di presa di rischio, incentivare secondo me coloro che si mettono a disposizione dei colleghi per formarli, coloro che hanno questi ruoli che quindi hanno forse un po' riconosciuti, ma ancora non sappiamo come, però un tema anche di riconoscimento formale di chi si mette a disposizione. Quindi questo è il secondo tema. Terzo, che è quello un po' più classico, è il tema di come formare le persone. Io vengo da esperienze retail, anche le aziende in cui sono oggi sono retail, il discorso della formazione classica sta perdendo un po' di interesse, i budget scendono, c'è un tema di complessità, rischiano di costare più le spese di trasferta della decenza perché persone sparse sul territorio, ci sono problemi di presidio dei negozi, quindi non posso staccare le persone, quindi di fatto la formazione d'aula sta riducendo il suo peso nell'ambito degli incrementi di sviluppo. quello che va per la maggiore è l'on-the-job, solo che l'on-the-job rischia di diventare un po' familiare, quindi quello che stiamo cercando di fare è strutturare bene l'on-the-job, quindi fare dei negozi scuola, formalizzare delle checklist di attività, torniamo a formalizzare chi è il formatore di riferimento, quindi fare dell'on-the-job qualcosa di valore aggiunto e costruttivo, quindi questo è il tema. L'altro tema, e mi ricollego un po' all'intervento della collega, è che noi ci rendiamo conto di avere anche delle carenze in termini di professionalità quando andiamo sul mercato per cercare persone, quindi il mondo delle modelliste, fashion designer, artigiani, mi stupirò, ma anche gli addetti vendita, cioè gli addetti vendita è un mestiere che non abbiamo giovani preparati a fare gli addetti vendita, quindi quello che stiamo facendo è identificare le professionalità strategiche per il nostro business e farci praticamente una scuola interna, quindi un'academy, abbiamo la pianoforte academy, prima eravamo academy, adesso stiamo virtualizzando tra le diverse insegne e quindi dalla formazione percorso classico tipo addetti vendita ci stiamo spingendo oltre, quindi tramite finanziamenti esterni partnerci con università e scuole è il fatto di montare una scuola interna all'interno della quale formare le nostre persone ma anche altri, perché ovviamente cambiamo un po' mestiere, diventiamo un po' formatori, però questo ci consente di avere risorse sempre accessibili, le vediamo in aula e poi possiamo fare stage e nello stesso tempo contribuiamo a creare le competenze che magari le professionalità scasseggiano talvolta. Bene, io direi due, mi sembra che le idee sono molto chiare, ci sono un progetto molto chiaro, due suggestioni, la prima e l'ultima che mi hai dato, pensavo alla copertina della rivista di direzione del personale appena che avete nel vostro folder, we can, direi quando c'è la crisi, se uno ha la strategia e sa dove vuole andare, mi sembra che quello è stato impostato, poi si appulsa l'ingegno quasi, dalla crisi si viene fuori l'idea di fare delle cose magari diverse e più innovative di quanto non si fa per tradizione quando i soldi abbondano. A me piace sempre ricordare che i grandi artisti rinascimentali erano tutti pagati, poco e si ingegnavano e hanno creato delle grandissime opere d'arte, guarda caso a volte la fecunia, la penuria viene fuori l'idea geniale, la cosa anche un po' alternativa. Ma mi ha colpito soprattutto all'inizio di quando parlavi che hai detto che l'officino non sapeva cosa fare il suo lavoro. Ora se ricollego questa roba ai big data, di cui mi ha detto stamattina che la digitalizzazione ci porta a in un nanosecondo elaborare miliardi di dati e quindi sappiamo tutto di tutto quello che succede nel mondo e poi non sappiamo cosa fare il nostro vicino della scrivania, che però non è un'azienda avanzata, un'azienda non avanzata, la chiave di lettura che mi piacerebbe dare, è la solita E e non O, cioè la digitalizzazione non sostituisce la umanizzazione del rapporto umano. Si può avere tutti i big data di questo mondo, ma se non quello si può fare il mio vicino di casa, non c'è big data del mondo che tenga, quindi anche il recupero di questo tema comunque sociale, umano e relazionale che è estremamente importante. Passerei a questo punto non all'area della Darila che era la child director di Monte di Paschi di Siena che si scusa e saluta ma non è venuta a venire, ma il mandato è venuta solo invece Fiorella Ferdi che è responsabile delle elezioni industriali dello stesso gruppo e quindi ci dirà, ci parlerà, ma quantomeno questo è quello che le volevo chiedere, un altro pezzo della gestione. Quindi abbiamo selezionato, abbiamo parlato di utilizzazione, abbiamo parlato di formazione, però adesso è tranne un mondo completamente diverso dal mondo bancario, credo che tutti noi abbiamo un'idea ancora un po' del barocrate, del bancario nel tempo con la sedicesima e la sessentesima che ci tratta male allo sportello, gli stereotipi ci sono ovunque e io penso che naturalmente siano stereotipi che siano stati superati, però la domanda è in un modo comunque difficile da trasformare, la cultura bancaria che non sia facile, come state operando in termini per esempio di attività di benessere, di organizzazione, di miglioramento, oggi si è parlato molto di wellness, quali sono le vostre iniziative per cambiare la cultura di un mondo in forte evoluzione? Non è un settore così affascinante come quello di Francesca, in effetti non lo è, però il cambiamento è insito e sotto gli occhi di tutti, quello del settore del credito, basta pensare a quello che ogni giorno sentiamo in televisione, le aggregazioni bancarie, sicuramente produrranno e producono un cambiamento, le aggregazioni bancarie da un lato e dall'altro lato questo contesto economico ha portato a una riduzione della rete di filiali di tutte le banche, di tutto il settore e a questo aggiungiamo un altro cambiamento che deriva da quello che stamattina abbiamo tanto sentito, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni tecnologiche in questo mondo producono quella che è la multicanalità, o meglio una banca digitale, cioè una banca completamente diversa da quella che fino ad oggi abbiamo conosciuto, il combinato disposto di tutte queste cose produce sicuramente dei rilievi sulla gestione delle risorse, se lo potete benissimo immaginare. Questo è il contesto generale, a questo contesto generale come il Monte dei Paschi noi ci investiamo in nostro contesto particolare e nel nostro contesto particolare si è trovata a gestire, adesso non sia la dottoressa Dallariva quando ha preso la responsabilità nel 2012 della direzione risorse umane, comunicazione e organizzazione, si è trovata un piano industriale in cui era previsto, certificato con il regolatore europeo, quindi in qualsiasi piano industriale, una riduzione di 8000 risorse. Gestire quindi questo tipo di complessità, questo cambiamento completo sicuramente non è stato facile e è stato fatto attraverso diversi strumenti, prima di tutto lo strumento tipico del settore del credito che ora banalmente li assumo come un fondo di prepensionamento, ma questo ha portato quindi a una uscita di 5.000 risorse da una banca che ne aveva 30.000 che sembrano poche ma sono tante, a una riduzione di sportelli, alla nascita di una banca digitale perché è nata a Uibiba all'interno del gruppo del moto e dei baschi. Tutto questo mantenendo viva la motivazione delle persone perché i cambiamenti si fanno se lo fanno le persone con la tecnologia, con i numeri, con i piani industriali non hai fatto ancora nulla se non cambia le persone e se oggi il gruppo è comunque in una situazione ben diversa da quella in cui si trovava nel 2012 è evidente che questa partita è stata vinta, è stata vinta attraverso un'attenzione alle risorse che è stata fatta dalla conoscenza delle singole risorse, quindi non solo conoscere cosa fa al vicino ma conoscere effettivamente quali sono le aspirazioni delle risorse perché conoscendole si può valorizzarle, cercare di sfruttare le singole abilità, sfruttarle perché? Perché con queste grosse riduzioni è evidente che la gestione è particolarmente difficile, faccio solo un numero, l'anno scorso hanno cambiato ruolo, hanno cambiato sede in oltre il 30% delle risorse, su questi numeri è un fattore rilevante, veramente molto importante. Se non ci fossero dei processi formativi, ma prima di tutto formativi ad accettare il cambiamento che deriva dal mondo interno ma anche dal mondo esterno, tutto questo non sarebbe stato possibile, oggi non saremo qua a raccontarlo con la stessa serenità. Non è ancora questo l'attenzione al cliente interno ma anche l'attenzione al cliente esterno che riproduce di nuovo un effetto sulla gestione delle risorse perché l'attenzione al cliente esterno fa sì che si sia creato un nuovo modo di fare banca perché abbiamo appena detto che abbiamo una banca digitale, che abbiamo una banca alla quale si accede non più solo entrando fisicamente in filiali ma vi si accede con un telefono, con un tablet, vi si accede con un computer. Questo fa sì che sia per forza necessario trovare una nuova modalità con la quale ci si mette in contatto con il cliente e di nuovo risiamo su progetti di formazione, su progetti di attenzione del cliente interno verso il cliente esterno. Per fare quindi una grossa fase di ascolto, questa fase di ascolto ci ha portato anche alla costruzione di banca abitiva che è stata costruita brand e il nome della banca, è stato fatto un lavoro, un contest con i clienti, il nome non l'ha scelto, il nome dei caschi, non l'ha scelto l'amministratore delegato ma l'ha scelto la clientela. Questa stessa attenzione posta nei confronti della clientela che si riferisce alla banca in modo digitale l'abbiamo posta anche al cliente tradizionale, tant'è vero che abbiamo in atto una ristrutturazione completa della rete filiali che vedrà filiali più moderni, quindi anche filiali in cui chi vi lavora vi lavora meglio e in cui vi sono all'interno strumenti tecnologici che in qualche modo abilitano anche il cliente a rivolgersi in maniera diversa nei confronti della banca. Abbiamo detto che questo lavoro che abbiamo impostato ormai da diversi anni non è stato un lavoro semplice, le risorse ci hanno creduto, qual è il fil rouge che ha comunque unito risorse e azienda, le risorse con il proprio management. Abbiamo un fil rouge che è stato sempre vivo in tutti questi anni nonostante le riduzioni sul costo del personale, nonostante i sacrifici che ognuno di noi in azienda ha fatto per l'azienda e quindi per noi stessi comunque, questo fil rouge è stato il welfare aziendale che è un patrimonio che è rivolto non solo alle 26.000 oggi risorse della banca ma è rivolto a un mondo che è fatto di circa 80.000 persone perché è fatto dai dipendenti, dai familiari, dai pensionati un welfare che assiste in tutta la vita lavorativa del dipendente che va dalla previdenza all'assistenza sanitaria ma che va anche al sostegno alla famiglia e è di questi giorni tangibile il sostegno alla famiglia perché abbiamo assunto in questi giorni i familiari dei dipendenti deceduti in servizio quindi è qualcosa di estremamente tangibile ma è un welfare che si riferisce per esempio all'aver costituito con l'ultima contrattazione di secondo livello che abbiamo sottoscritto alla vigilia di Natale una banca del tempo, quindi uno strumento che serve ai dipendenti che si trovano in condizioni disagiate di usufruire di giornate di permesso oltre a quelle che sono consentite per legge e con questo stesso contatto abbiamo sviluppato una solidarietà tra dipendenti. Come l'abbiamo sviluppata? Sempre come diciamo sempre dalla testa dal management e quindi dall'amministratore delegato e dal presidente che hanno devoluto un anno intero di emolumenti a questo fondo a beneficio dell'intera collettività quindi questo è un altro esempio, questo fil rouge che ci lega tutti insieme e che ci appassiona in qualche modo ma il welfare non è solamente rivolto all'interno della banca ma è rivolto anche al nostro territorio e al territorio è rivolto per esempio all'università, sempre in questi giorni abbiamo inserito in azienda con il contratto di apprendistato di alta formazione una decina di risorse che cominciano il loro percorso professionale anche all'interno dell'azienda. Quindi tutto questo è quello che lega tutti noi insieme. Bene, non so, ovviamente tutti sappiamo che il Monte del Basco è stato anche sottoposto a un po' di problematiche quindi immaginate che nella motivazione anche sotto attacco non sia comunque in questa situazione di difficoltà non sia facile. Non è facile, tutte le mattine si deve, come si dice, aprire la sala cinesca e si deve sorridere al cliente che entra quindi nonostante tutto quello che il collega legge sul giornale deve sempre rivolgersi al cliente in questo modo. Immagino che questo rende ancora più difficile. Prima Salvemini ricordava la lezione di Adriano Olivetti in alcune delle cose che hai raccontato e che già aveva tutto il tema dell'oversello di Vettiano con cose molto antiche, antiche lo dico in termine positivo, tipo l'assunzione dei familiari, persone decedute e con cose come la banca del tempo, cose invece ovviamente molto più moderne. Però mi ha colpito molto di nuovo il tema del cambiamento, lo dicevo in una famosa frase Einstein che non si può perdere, il cambiamento tutti lo vivono alla crisi, scusate, tutti la vivono come un grande problema mentre la crisi è la vera cosa che fa evolvere il mondo, Einstein ha delle parole bellissime su questo tema e ancora una volta voi avete preso la crisi e l'avete trasformato in un fattore di motivazione addirittura di cambiamento delle professionalità. Il cambio di professionalità è diventato un motivo di engagement assolutamente sì. Però questo punto mi ricollega a quello che volevo un po' chiedere a Simonetta Cavazzini che è il general manager di AODM perché è proprio il tema un po' dell'obsolucenza delle vie ruoli e delle mansioni in questo momento. Chiunque io, un'altra settimana fa, c'è il direttore a Ciale sono un libero cittadino dopo 35 anni di carcere, sono un libero cittadino, però chi fa questo mestiere che l'azienda, lo fa da tanti anni, sa perfettamente che in questo momento l'azienda con grave ritardo, secondo me, si sta iniziando a capire che ci sono delle professionalità a me viene in mente soprattutto l'area information technology che aveva parlato stamattina ma anche nel marketing, ma anche nel risorso umano dove il cambio completo delle competenze necessarie se ne ho parlato a lungo, rende alcuni ruoli completamente non più in linea e quindi all'interno dell'employability esterna, cioè far sì che ognuno sia sempre pronto a cambiare eventualmente il lavoro con la sua professionalità, le aziende devono posto un grave problema di velocità dell'employability interna, cioè di far sì che le proprie persone siano costantemente aggiornate in termini professionali per poter rispondere ai cambiamenti dentro l'azienda, ancora prima che fuori dall'azienda, perché in me che non si dica uno scopo che il progetto con un matore giallo che fin'altro giorno era il punto di diamante, non sa mai più, adesso è tutto i osso. Allora Simonetto, so che voi ci state lavorando molto su questo tema anche con degli approcci all'astanza e innovativi, credo sia una domanda molto forte che viene dall'azienda, come faccio a gestire il cambiamento e la transizione di ruolo? Buonasera a tutti, non c'è la risposta predefinita, riprendo le tre parole chiave della nostra tavola rotonda, flessibilità, employability e generazioni a confronto. Allora se leggiamo la parola flessibilità dal punto di vista organizzativo c'è sicuramente la riflessione che portava Francesca su chi fa che cosa e la struttura che un'azienda deve avere e se volete questa è una visione solida ma classica all'interno dell'organizzazione. Il tema della flessibilità organizzativa è un tema che è anche legato a chiedersi con lucidità e a essere consapevoli che in tutte le organizzazioni i ruoli sono in crescita, i ruoli sono stabili e i ruoli sono in dettaglio. Questo diventa un elemento, un filo rosso delle dinamiche organizzative, non parliamo in questo momento delle persone, stiamo facendo appunto una riflessione sul ruolo. Quindi il cambiamento organizzativo che prima era tipicamente nelle nostre aziende legato a momenti di vita dell'azienda, sia positivi e magari molto negativi, è una costante. Ormai forse non è neanche più opportuno di parlare di strutturazioni o crescita, si parla di dimensionamento. Quindi il primo tema, lato organizzazione, è proprio avere una consapevolezza che occupiamo e realizziamo, svolgiamo e realizziamo ruoli che appunto sono un momento in crescita, sono un momento stabile e sono un momento in dettino. Come arrivare poi a posizionare i ruoli all'interno di questi macro cluster è un lavoro, è un lavoro che si fa mettendo insieme soprattutto il collegamento forte con la business strategy. Durante il convegno oggi si è richiamato anche rispetto alle competenze Chava, che cosa vuol dire essere business partner, in parte vuol dire non fare il mestiere degli altri, ma fare il nostro mestiere conoscendo molto bene che cosa l'azienda vuole diventare, vuole essere e portando questo tipo di riflessione alla riflessione organizzativa, che parte soprattutto da una consapevolezza di di carattere organizzativo, ed ha a Leciara un ruolo di facilitatore da questo punto di vista molto potente. Quindi la parola flessibilità io l'accolgo nella logica organizzativa. Employability, generazione e confronto, le richiamo portando dentro a questo quadro di riferimento il tema delle persone. Poi ci sono le persone che occupano i ruoli in crescita, ci sono le persone che occupano i ruoli stabili e le persone che occupano i ruoli in declino. E qui c'è un tema di generazione e confronto e quindi anche una consapevolezza di chi sta facendo e sta appunto realizzando quel ruolo all'interno dell'azienda. Questa mattina si è parlato il professor Costa, la prima cosa che ha detto è demografia. E quindi conoscere l'azienda, le persone per la loro storia aziendale, per il loro portale dei bisogni generazionali. Questo diventa un elemento molto importante proprio perché i bisogni e le necessità diventano diverse. Il tema dell'employability nella logica appunto di questo approccio, di questa riflessione è quello di avere una fotografia sulle persone presenti all'interno dell'organizzazione che permette alla direzione CHAR di avere molte informazioni. Le persone che lavorano nelle aziende hanno una loro storia professionale, hanno competenze, hanno appunto una età, hanno delle seniority, hanno delle storie di performance, hanno delle storie legate alle competenze, hanno delle storie appunto di potenziale. Conoscere le persone permette di capire se le persone sono in grado di sostenere ruoli in crescita, di essere capaci di garantire performance, ruoli stabili e di essere ricollocate e posizionate all'interno dell'organizzazione se occupano dei ruoli in declino. Questo richiama un'altra sfida, secondo me è molto importante per chi lavora nelle aziende, per chi fa il nostro mestiere di persone che si occupano di persone, quindi che è quello delle informazioni, avere dati, farmi parlare insieme. Questo è un elemento che anche in aziende molto sofisticate è difficile da fare. Quindi costruire un framework, una logica di riferimento che permetta da, se volete, una lucidità organizzativa e di consapevolezza che nulla possiamo fissare nel tempo, ma tutto in costante cambiamento, avere la possibilità per oggi di reggere il timone della nave e quindi di non farci portare in giro ma di guidare un percorso. Allora credo che questo tipo di ragionamento che noi stiamo facendo e facciamo lavorando sempre a quattro mani con le aziende, con chi si occupa di risorse umane, con chi ha delle responsabilità a livello di top management, possa aiutare a costruire degli accoraggi. quindi magari non trovare delle risposte perfette, però ad avere dei punti di riferimento su cui appunto riuscirà a pilotare in modo sufficientemente sicuro. Proprio è un percorso quello che ho affrontato, non è una cosa, è quella vera cosa che come risorse umane dovevamo un po' sempre più sviluppare e che non esiste un problema, un altro problema, un altro problema. Esistono due cose importanti, la visione sistemica legata al business, come diceva Simonetta, che è la cosa più importante che io ho ricepito, è il percorso. Gli interventi a spot, uno qui, uno lì, uno là, che non siano sistemici, legati al business e un percorso sono un po' troppo usuali nella direzione di risorse umane e non ce li possiamo più permettere, perché sono i famosi soldi dispersi di cui ci parla il nostro CEO. Per dimostrare che non sono soldi persi ma soldi investiti come sono, devono essere soldi investiti, che lo dobbiamo dimostrare fortemente, anche usando il linguaggio del business, il collegamento col business, la visione sistemica integrata anche col business degli interventi e soprattutto il percorso. Francesca Mondolito fa un monico studio legale che ovviamente affronterà, a cui vorrei chiedere, partendo anche dalla riflessione che hanno fatto le colleghe, il tema della flessibilità in particolare, un tema che ovviamente è molto importante per le aziende e molto seguito dagli studi legali. È un tema che si pone sia il corso di rapporto di lavoro, quindi abbiamo parlato di employer meeting, ma come gestiamo poi anche in termini pratici, giuridici, contrattuali, questa flessibilità, ma è anche legato a un tema di cui molto si è parlato di nuovo la demografia di costa, al tema dell'aging. Quindi come facciamo la famosa staffetta generazionale, come gestiamo gli anziani lavoratori, cioè come abbiamo messo, quando arrivano le certe età, come facciamo a fare mentoring, quello verso mentoring, cioè come facciamo a testirsi questa flessibilità nel rapporto di lavoro. Einstein diceva che la follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. È quello che non ha capito il legislatore italiano, perché voi, HR manager, fate tanti sforzi per migliorare l'organizzazione aziendale, il clima, la vita di quella che è oggi chiamata risorsa umana e capitale umano, anzi, il legislatore dovrebbe mettere più gli occhiali e capire quello che sta accadendo, quello che avviene. La sintesi diciamo di quella che è la problematica, è una domanda che arrivo subito, diciamo rispondo alla domanda che Andrea mi ha chiesto e apposto, può essere sintetizzata in negativo a quello che è una lettura distorta che ha portato ad affermare un aprioristico dualismo del mercato del lavoro, cioè da un lato i giovani, dall'altro lato i vecchi, contrapposti ai giovani. Guardate, anche lo stesso Jobs Act, almeno di vedere quella norma incostituzionale, il bondo è andato a normare il contratto di recrescente, quindi cambiando regine sanzionatorie che ha previsto un regime sanzionatorio per i giovani assunti più consono al mercato, io la leggo in questa materia, e lasciando ai vecchi la vecchia disciplina dell'articolo 18 sia pure normata dalla legge fornero. Mentre invece, e lo hanno dimostrato anche interessanti interventi che mi hanno preceduto, questi aspetti micotomici tali non devono essere, cioè, anzi, il vecchio ha bisogno del nuovo, del giovane, il giovane ha bisogno del vecchio. Nel primo caso, senza il giovane, il sistema welfare salta, e parlo del welfare, cioè proprio di sicurezza sociale, quindi pensionistico, contribuzione, senza il vecchio, il giovane ha problemi anche in un'ottica formativa. Cercherò brevemente di analizzare quali sono i due aspetti macro che determinano il fatto che in Italia la frase di Einstein non viene applicata, cioè noi pensiamo di cambiare senza cambiare le cose. È interessante, in un'ottica di sguardo di quella che l'Europa ci dice, il progetto europeo sintetizzato da cosiddetta soft law, che va a santificare quattro principi fondamentali rispetto agli argomenti che stiamo affrontando oggi. Sviluppo, primo principio, delle transazioni lavorative e virtuose tramite le politiche attive del lavoro. Dice testualmente la comunicazione della Commissione Rovere del 2007, l'anno del 359, la libertà di assumere le essenziali deve essere accompagnata da transizioni sicuri da un lavoro all'altro. Secondo principio, modernizzazione del mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di servizi che consentono il cosiddetto life learning, consentire cioè alle persone di migliorare le proprie competenze lungo l'intero acqua della vita lavorativa. Io qui ho scritto vita lavorativa, in realtà la testuale parola è nell'acqua di tutta l'intera vita, dalla nascita fino alla morte. Quindi io l'ho condensato, perché non ci piace di più, sulla vita lavorativa. Terzo principio, sviluppo dei sistemi informativi trasnazionali che pongono in contatto efficacemente domande e offerta, il cosiddetto matching. Quattro ed ultimo, sostegno all'occupazione giovanile soprattutto tramite costante collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, ahimè, al fine di garantire l'alternanza prima e la giro di transizione in poi. Questo, secondo il legislatore italiano, è stato fatto. Per Jobs Act Renziano si ritiene di aver comunque condensato nelle norme questi principi. Forse infatti è stato fatto, sicuramente non posso essere sempre solo critico, se no divento antipatico. Però gli aspetti fondamentali che denotano una mancanza di cultura occhialuta, non mio, ma di sguardo vero, reale al mercato del lavoro, al mercato che cambia, è dato due fondamentali preconcetti che noi ci portiamo indietro. Il primo è legato alla pubblica istruzione, alla scuola. Io indegnamente insegno all'università, io per primo mi arrabbio quando noto che molti programmi formativi sono fatti senza guardare assolutamente quello che accade fuori dalla scuola, fuori dall'università, nel mercato del lavoro. Qualcosa sì, qualcuno in quotidiano si è fatto, si sta facendo. Io per esempio sono un consulente con la gara della Bosch, a Bari e a Milano la Bosch, con il Bosch Tech, ha prodotto un accordo con gli istituti tecnico-professionali rispetto ai quali la Bosch chiede delle professionalità con specifici programmi ad hoc per poter far fronte a quelle che sono le proprie esigenze in un'ottica produttiva. Però questo non avviene nella maggior parte dei casi, soprattutto, questo è legato comunque, lo si studia anche nell'ambito della storia, della politica italiana, perché in Italia si è venuto a scegliere proprio una netta dicotonia tra scuola e mercato del lavoro, ha una ragione politica, cioè non c'è quel dualismo invece tipo tedesco, germano, quindi non è un caso che la Bosch è andata a fare questo accordo con la scuola qui a Bari. Mi viene da chiedere, però attualmente l'ho fatto molto spesso anche al mio rettore, ma quanti sistemi formativi progettano in collaborazione con il mercato e le aziende, quanti sistemi formativi si preoccupano di verificare che cosa accade ai ragazzi una volta poi usciti dalla scuola, quante aziende si preoccupano di valutare realmente le competenze dei lavoratori, la capacità di creare valore. Questo dal lato scolastico, dal lato normativo, ahimè, il Jobs Act ha fatto qualcosa, sappiamo prima di tutto la seguita in uscita, l'abbiamo citata, ha creato un nuovo regime sanzionatorio per favorire in un mercato in cui vedeva la creazione di una setra stagliata di tipologie contrattuali differenti, quello di dare un pochino più risalto al contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se io su questo sono un po' così critico, anche perché dico che la dignità di lavoro va data anche ad altri lavoratori, io per primo sono un lavoratore autonomo, sono un lavoratore come gli altri, ma non ho tutela sulla malattia, non ho tutela sull'infortunio, non ho alcuna tutela, forse nel 2016 è arrivato il momento per cambiare la mentalità e l'approccio, si parla di statuto dei lavori, creando una flessibilità rispetto al nuovo contratto a tempo indeterminato dovuto a un regime sanzionatorio che cambia. Ha creato una flessibilità in entrata attraverso un acquavallero di proposte, cioè di politiche attive del lavoro, creazione di un portale informativo unico delle politiche del lavoro, cioè l'AMPA, che però dobbiamo vedere perché è in fase di avviamento, che incrocerà una serie di dati collegando varie banche e dati pubbliche al fine di rendere più trasparenti il mercato del lavoro, l'introduzione della serie di collocamento per i disoccupati da spendere presso le agenzie private, i centri di rassunzione, i patti generazionali e poi la ultima flessibilità in costanza di rapporto di lavoro con la cosiddetta riforma della disciplina delle mansioni. In intera normativa non c'è spazio per analisi, per eseggesi, un singolo individuale di ogni punto testa eccitato, però comunque risente, abbiamo voglia di vedere, quindi anche questo nell'ottica di non conoscenza della frase di Einstein, di quello che l'hanno citato le amiche qui presenti, la flessibilità è la parola chiave, cioè manda comunque l'idea di una flessibilità anche contrattuale, parlo anche di contrattazione aziendale, che faccia risolvere alla singola azienda rispetto alla propria tipologia quelle che sono le problematiche riscontrate anche in questo passaggio intergenerazionale. Sto arrivando alla conclusione, però l'esempio è calzante perché se la domanda è per esempio sull'uscita degli anziani per favorire l'ingresso dei giovani, bene, il tentativo fatto in tal senso dal governo benziano di Renzi è, a mio modo, rivedere maldestro, tant'è che poi i dati parlano e parleranno. Sto parlando di cosiddetta staffetta generazionale che passa attraverso la prima fase, l'articolo 41 del decreto legislativo 148 del 2015, successivamente si è avuta la legge di stabilità, la legge del 208 del 2015 e poi dall'ultimo decreto interministeriale emanato il 13 aprile del 2016, quindi freschissimo. sapete che qui hanno creato i cosiddetti contratti, hanno allargato, hanno rispolverato quelli che, il tentativo di trentennale, i cosiddetti contratti di solidarietà espansivi, prevedendo in una prima parte, nella prima parte dell'articolo 41 la possibilità di prevedere, di stipulare accordi aziendali, però ecco quello non è flessibilità, cioè mi si dice fai l'accordo aziendale così come te lo dico io, così come ti ho detto io normativamente, non va bene e vediamo perché. Puoi fare accordi aziendali che prevedano la possibilità per i lavoratori anziani a cui mancano non più di 24 mesi di trasformare il proprio rapporto di lavoro in part time a condizione che tu assumi giovani, addirittura c'è un'opzione tra 15 e 29 anni e io ti corrispondo un contributo che è il 15% nel primo anno, 10% nel secondo anno, 5% nel terzo anno. I lavoratori non perdono nulla perché praticamente hanno comunque la possibilità di godere della contribuzione figurativa per esempio. Nella seconda parte li analizzo tutti insieme e poi vi dico quali sono gli aspetti critici. Nella seconda parte invece prevedono la possibilità di una riduzione part time di un lavoratore che lo richiede tra il 40 e il 60% senza accordo collettivo che addirittura con l'obbligo per i datori di lavoro vi corrisponde al lavoratore una somma pari alla contribuzione per la prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento per la corrispettiva contribuzione figurativa per quello solo che abbiamo detto. Da un calcolo che ho fatto fare dal mio dipartimento per nonna praticamente in tutte le simulazioni che abbiamo ipotizzato di riduzione del part time secondo quanto è sabito la legge, comunque con la contribuzione, in quel senso quel quid dato al datore di lavoro eccetera, comunque il costo del lavoro per il datore di lavoro aumenta nella misura tra i 13 mila euro all'anno di 16 mila euro all'anno. Qualcuno può dire sì però comunque si è accresciuta in parte la forza lavoro perché se il part time facciamo finta il 50% io ho 1,50% detto così, però ho un costo maggiore. Questo favorire l'occupazione non è appetibile, in tanto tempo mi dicono gli operatori del settore che non ha avuto assolutamente sino ad oggi ma neanche proprio la possibilità di un approccio in tal senso da parte delle aziende. Conclusione? Follia è fare sempre la stessa cosa aspettando i risultati diversi, cioè non è possibile pensare di poter cambiare come invece voi e già state tentando di fare nonostante queste norme, il sistema, il mercato con norme che non consentono una flessibilità che spazia. Potremmo discutere per tantissimo per cui non entro, solo credo che concorderai, queste leggi sono, le tue osservazioni in buona parte sono condivisibili e sono perfettibili sicuramente, credo che sia importante proprio nella nostra ottica di operatori, tu lo dimostri con i fatti quindi non hai bisogno di dirlo, che in questi pertugi di miglioramento bisogna lavorarci. Nel senso che ci sono molte pertugi, io ne voglio citare uno così faccio anche un piccolo spot per l'IDP, cioè alternanza scuola-lavoro, è una legge perfetta, però è una legge che va finalmente dopo una marea di tempo nella direzione giusta. In Lombardia stiamo facendo partire, come l'IDP Lombardia, ma so che a Modena e Emilia faccio cose simili, un progetto per partire in questi giorni in cui l'IDP si sta proponendo faticosamente come ponte di raccoglio tra le aziende, le scuole, il provveditorato per far sì che le aziende capiscano che l'alternanza scuola-lavoro non è un costo, come diceva questa mattina, giustamente anche Sacoli se non ricordo male, ma è una cosa che è un investimento, perché mi prendo, mi curo, mi faccio crescere i ragazzi fin da giovani e i giovani devono capire che andare nell'azienda non è che mi faccio l'industria mi paga, mi compra, ma è un'opportunità di imparare il lavoro più in fretta. Ecco, l'alternanza scuola-lavoro è una legge imperfetta, ma usiamola finché è possibile, questo è quello che si è pensato. L'accessibilità non è precariato, ma è un modo diverso e migliore di lavorare, l'employability è un modo di responsabilizzare, di fare un nuovo patto, un vero, un nuovo sinallarma tra lavoratore e azienda e il patto generazionale ce n'è tanto da fare. Non è non è non nemmeno che bacia fuori, non è che vado a stare a casa fuori, non è che mandano servitore, non è non è non è non è non mandare che notte o le non è giù, mandato io, aggiungo le parole.